a voi il nostro special guest vendi chi il pantani delle casete oggi cercheremo il nostro presidente cercherà di abbattere il muro dei 30 minuti a fare forse di nuovo che se non lo abbatto mi ha detto di di correre col monopattino giuro giuro ecco non vado neanche per giocare a calcetto faccio solo bicicletta non mi masturbo più no no ma poi quello non potrò mai dirlo guarda arriva a calcetto vediamo che è tardi oh ma è uno dei punti più di rompicazzo ma di tutte le salite adesso si si vai vai fatti vedere col tuo slang furibondo te l'ho già fatta ti sei fatto battere dal pantani delle casete si ti perde dopo 30 metri prospetto che fenomeno assomiglia troppo al babbo di fabiano sto qua lo taglieremo e lo metteremo su marina bike il babbo di fabiano sul post di nuovo era troppo non so solido ma non esteticamente come sia come tono di voce soprattutto come tono di voce si si sente come tipo di uscita di considerazione oddio ti pensa che sono a 150 si deve essere vero il proprio è stato un po' Secondo me la fa 3 o 4 volte La rabbia incontenibile di questo ciclista ormai alla fine dei suoi giorni Sul scalto del ciclo Sotto i 32, dai! Assolutamente Per poco eh Anche io si Io mi stavo attaccato un pelettino prima Va bene l'hai fatta in 25 Eh? L'hai fatta in 25 Che puzza cazzo Scusa Ho tirato una cura e ce l'ho sentita L'hai fatta anche te? No 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 No